Bufera in consiglio regionale dopo la mancata nomina del garante per l'infanzia. Tra i nomi votati in segreto anche quello della fantoziana Contessa Sorbelloni-Mazzanti viene dal mare. Capovaro, posso andare? Vadi Contessa, vadi! A finire in acqua però stavolta è la maggioranza di centrodestra. Nel consiglio di ieri infatti sono stati nominati regolarmente tre membri del consiglio delle garanzie statuarie, due vicini alla maggioranza e uno in quota 5 stelle. Poi però si è proceduto alla votazione sul garante dell'infanzia. Dopo le fumate nere nelle prime votazioni in cui occorreva la maggioranza qualificata, ecco che tutti si aspettavano la nomina, tramite maggioranza semplice, dell'avvocato Maria Concetta Fallivene, voluta da Forza Italia. A sorpresa invece sono stati solo 15 voti, troppo pochi. La maggioranza di centrodestra in regione è formata da 17 consiglieri, il che significa che in due hanno votato contro il proprio schieramento. Il PD parla di regolamento di conti tra Lega e Forza Italia, a discapito dei diritti dei bambini. Ma il capogruppo leghista, Pietro Quaresimale, è convinto che quelli del Carroccio abbiano votato tutti a favore. La Lega come gruppo ha votato con patto il candidato designato dal tavolo politico di maggioranza. Troppo sono mancati due voti, è logicamente il voto segreto, ma io ho il massimo avviluccio dei 10 consiglieri. La capogruppo dei 5 Stelle, Sara Marcozzi, parla di figuraccia. L'atteggiamento irresponsabile della maggioranza, dichiarato la pentastellata, le ha portati ad anteporre i giochi politici a una nomina necessaria per gli abruzzesi. Forse però, piuttosto che di giochi politici, si tratta dell'inesperienza di alcuni consiglieri che non si erano resi conto che quella era la votazione decisiva. E così, pur di continuare gli sfottò e votare nomi goliardici, hanno mandato in fumo la nomina del garante, rimandata alla prossima seduta. Le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, sembrano indicare questa versione dei fatti. C'è stata un po' di poca scrupolosità e forse un po' di disattenzione. Nessun problema, però, così come uno deve dire che quando le cose vanno bene bisogna metterle in evidenza, così bisogna essere onesti intellettualmente nel dire che ieri siamo stati meno bravi. Nel consiglio di ieri si è poi proceduto alla nomina di Davide Di Giacinto Calcedonio, in quota lega, all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, il quale rischiava il commissariamento, se fosse sfumata anche questa votazione. Il senatore forzista Nazerio Pagano, però, per rifarsi del tradimento subito prima, ordina i suoi di lasciare l'aula. Il capogruppo Daniele Damario così va via, ma il sottosegretario alla presidenza, Umberto D'Annunzis, ci ripensa e il suo voto sarà decisivo per eleggere Di Giacinto, che ora attende la nomina ufficiale da parte di Marsilio. La regione ha così evitato la seconda brutta figura in un solo giorno, ma i rapporti all'interno della maggioranza continuano ad essere quanto mai tesi.